Mary Jane ASMR Ciao ragazzi! Come state? Tutto bene? Vi auguro una buonissima estate Come sempre io vi do il benvenuto sul mio canale Se non siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale E lasciatemi un like se vi piacciono i miei video Allora il video di oggi sarà un video molto semplice Dove vi accarezzerò con questo pennello Faremo qualche trigger rilassante Per stare buonsieme Nulla di complicato Soltanto rilassarci come sempre Ma semplicemente Con il guante del corpo per caso Sta tocando Allora te accarezzò un po' Te accarezzò un po' il viso Te accarezzò 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 diagrazo lì diagrazo lì dolce diagrazo 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 anche da quest'altro lato da quest'altro lato da quest'altro lato da quest'altro lato e sì anche da quest'altro lato diagrazo 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 da quante che non facciamo i tabbi che su unghie naturali un sacco di tempo diagrazo 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 poi con le mani e già credo che mi sopia a volerlo poi con le mani vedi ci rilassiamo molto semplicemente cosa ti posso fare altro? hai già ascoltato il suono dei bicchieri di carta qui? no non li ho mai portati a parte che sono bellissimi molto estetic da vedere pazzeschi li ho trovati all'Eurospir appena li ho visti non ho affatto pensato che potessero servire per bere lo so è strano si ho pensato prima all'ASML poi all'uso che ne potrei fare ordinario cioè bere quello che fanno tutti dovrebbe essere il contrario perché bevi ti fai ASMR ma ci posso bere anche è così ragazzi veri Jane ovunque butta lo sguardo se c'è qualcosa che le interessa anche se quel prodotto ha un genere e si usa per una determinata cosa per me viene prima all'ASML ma vabbè penso che questa è una deformazione professionale perché hanno tutti quelli che vanno aperto sempre assoluto ma è così il tapping sotto il fondo del bicchiere è pazzesco e quindi se qui vediamo è è è è è è è un solo prodotto, un solo oggetto, quanti tingles un solo prodotto, quanti tingles, quanti tingles un solo prodotto quanti tingles un solo prodotto Sì Grazie a tutti. 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 Sono bastati questi pochi minuti insieme per rilassarti la mente? Beh, io spero di sì, spero vivamente, spero vivamente, spero vivamente, spero vivamente, come sempre, di sì. Abbiamo trascorso anche oggi del nostro tempo insieme. Grazie a tutti. Ci rivediamo nel prossimo video. Ciao, ciao. Ciao.